Buongiorno a tutti, bella giornata a Milano ed è la peggiore delle prossime 49 perché andrà sempre meglio. Ora, no, 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 fermi lì, fermi. Noi siamo qui oggi a raccontare che cosa pensiamo per il futuro della Lombardia e dell'Italia con proposte in positivo e senza polemica nei confronti di nessuno. Nessuno, nessuno, nessuno. Credo che l'esperienza di una campagna elettorale in primis sia una gigantesca esperienza umana. Il lusso più grande per chi fa politica non sono le auto blu, non è lo stipendio, non è la qualità della vita. Il lusso più grande per chi fa politica è andare incontro agli altri, andare incontro alle donne e agli uomini del nostro tempo e poter stabilire una relazione umana. Amici di Milano, viviamo questi 49 giorni innanzitutto nella logica umana. Grazie.